Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Reggio Calabria, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale, hanno denunciato tre legati rappresentanti di attività commerciali per avere ognuno per la parte di competenza prodotto e commercializzato gel igienizzanti antibatterici in assenza della prevista autorizzazione ministeriale. Nello specifico, i carabinieri hanno condotto un'attività ispettiva presso centri commerciali e attività all'ingrosso in Reggio Calabria e provincia, rinvenendo, esposti alla vendita, confezioni di gel igienizzante che vantava azioni di contrasto a batteri e virus. Dalle verifiche eseguite risultava che questi prodotti essenzialmente cosmetici venivano identificati come un biocida, senza essere mai stati autorizzati dal Ministero della Salute e pertanto traeva l'inganno l'acquirente circa le qualità e gli effetti pubblicizzati. Le perquisizioni effettuate nelle attività commerciali interessate hanno portato al sequestro di oltre 1.500 confezioni di prodotto.